cari amici di vox italia tv benvenuti ad un nostro nuovo approfondimento è tornato da noi diego fusaro filosofo ideologo di vox italia protagonista insieme al sottoscritto e a mauro scardovelli del grande incontro che si terrà il 27 febbraio a roma per dare inizio diciamo ad un corso che vuole portare l'italia fuori da questa dittatura ormai non più strisciante ma conclamata ciao diego grazie per essere tornato da noi un caro saluto da diego fusaro e grazie a voi dell'invito come sempre ecco diego insomma siccome tu sei un uomo che notoriamente impone la propria visione del mondo impone insomma suggerisce per mezzo della cultura del ragionamento dello studio dell'analisi ti chiedo insomma di creare la cornice di offrire a tutti quelli che ci ascoltano la cornice filosofica che ci ha spinto a fare questo grande evento a roma il 27 che è solo propedeutica quella ancora più grande che faremo appena si potrà insomma in presenza con migliaia di persone di scritti di tesserati che verranno con noi sempre a roma per dare un segno di cambiamento in un paese oramai otrofizzato e schiacciato da questi dpcm certo la situazione è effettivamente emergenziale sotto più profili lo era già in precedenza intendiamoci con un'unione europea che sempre più stritolava l'italia con un atlantismo che sempre più condannava l'italia e l'europa tutta a rango di semplice colonia senza anima la situazione era già grave dall'offensiva liberista che dopo il 1989 aveva preso a dilagare si è resa ancora più grave come sappiamo con l'emergenza epidemiologica che ben presto è divenuta un metodo di governo ad uso delle classi dominanti per cui occorre rinsaldare la forza politica che si è creata occorre specificare gli obiettivi che bisogna darsi anche alla luce dell'emergenza epidemiologica occorre fare chiarezza e essere dotati di una forza propulsiva ancora maggiore per questo il convegno che si è convocato a roma per il 27 di febbraio prossimo venturo l'esattamente un tentativo di fare chiarezza e di specificare quali sono gli intenti io posso dire che nel tempo il nome del partito era vox in realtà abbiamo scoperto che si poteva declinare al plurale voces perché in realtà ce n'erano ce n'era più d'una all'interno di vox in particolare si erano prodotte se così vogliamo se così vogliamo dire due diverse prospettive non tanto due diverse prospettive sul mondo ma due diverse prospettive di pratica politica da un lato vi erano quelli vi sono quelli che vogliono immediatamente andare al pratico riscuotere sul pratico in termini elettorali che sono disposti evidentemente a come dire a rinunciare a ogni velleità culturale ogni tentativo di elaborare una visione del mondo a ogni tentativo di fare una riforma paziente molecolare delle coscienze vogliono subito andare vocianti appunto nelle piazze e a riscuotere un successo e poi vi è un'altra componente che era quella pare di poter dire fosse quella determinante all'inizio del progetto che mirava invece elaborare una visione culturale che fosse anche politica naturalmente che quindi aveva elaborato tutta una serie di capisaldi che sono quelli alla base del progetto ecco il 27 di febbraio sarà una buona occasione per delineare meglio il corso da seguire e fare chiarezza sull'identità propria e altrui ogni tentativo di fissare la propria identità viene sempre fissando anche la differenza tra sé e l'altro da sé tra la propria identità e quella di chi è altro rispetto a noi mi pare di poter dire che si fossero determinate queste due queste due anime ecco una delle quali peraltro che quella in cui personalmente non mi riconosco sostiene che in fondo l'uscita dall'unione europea è il cardine principale anzi esclusivo io ritengo che le cose siano lievemente più complesse per chi abbia voglia di ragionare non si lasci prendere dalla foga e dalla furia del dileguare e quindi proveremo a ragionare su questo come ho già detto una scissione in un partito è un movimento di rafforzamento del partito stesso che supera la scissione e si e ritorna in sé più più forte rispetto a prima questo è l'obiettivo che ci siamo proposti e quindi per usare sempre la metafora nautica finora siamo rimasti nella darsena a lavorare alla nostra barca adesso è il momento di salpare con chi vorrà venire con chi vorrà navigare insieme a noi e senza coloro i quali invece preferiranno rimanere legittimamente a terra o imbarcarsi su su altre su altri vascelli ecco diego è bene che spiegare con chiarezza anche qual è il tuo ruolo perché alcuni magari ti vedrebbero bene come leader politico pensano che tu posso voglia fare subito il leader politico quando in realtà la tua funzione il tuo ruolo è sempre stato chiarissimo ed è quello dell'ideologo ed è quello di chi indica una rotta di quello che aiuta gli iscritti militanti i dirigenti a mettere a fuoco una linea di pensiero che poi si traduce in azione politica perché come diceva qualcuno che di politica ne capiva molto non esiste partito rivoluzionario senza teoria rivoluzionaria tu pensi che la il dramma dei nostri tempi cioè di partiti che si presentano in un modo alle elezioni penso al movimento 5 stelle o alla lega e poi si ritrovano in parlamento ad appoggiare draghi che rappresenta che incarna l'esatta negazione di tutte le cose che loro hanno proposto e anche il risultato del fatto che non seguono un'ideologia ma solo interessi contingenti cioè tu vuoi spiegare alla gente che ci ascolta perché il tuo ruolo perché il tuo ruolo il ruolo di un ideologo dentro un partito è fondamentale e non è veramente accessorio o un vezzo da intellettuali come quelli insomma che si sentono pratici dicono di solito sì è un tema decisivo questo occorre avere una una rotta occorre avere una visione del mondo se no non sia un partito ma si è come usa dire un movimento di servizio che può portare avanti singole istanze anche più che legittime come può essere l'acqua bene comune come può essere la famiglia come può essere l'uscita dall'euro come può essere la difesa dei pesci rossi della valsusa per immaginare altri movimenti però ecco a mio giudizio il partito dovrebbe avere una visione articolata dovrebbe essere il luogo in cui una visione del mondo diventa soggetto corale che si batte per tradurre in pratica quella visione del mondo ecco perché è importante il tema delle ideologie contro chi invece sostiene che l'ideologia è solo qualcosa di negativo ora intendiamoci ideologia la parola ideologia ha due accezioni nel lessico gramsciano è per un verso la copertura dei rapporti di forza che le classi dominanti e loro intellettuali fanno per giustificare come interesse di tutti l'interesse dei pochi ma ideologia anche una visione mobilitativa una filosofia che diventa senso comune e campo di battaglia pratica di una di una parte della società di un partito appunto e quindi questa è l'importanza fondamentale che che manca ecco vox in origine voleva essere ricordo sempre che si usava questa formula il primo movimento ideologico nell'era post ideologica ecco è proprio anche per evitare queste pittoresche situazioni della leghe del 5 stelle che adesso appoggiano mario draghi e che quindi di fatto pensano di poter trasformare se stessi in continuazione no magari fingendo una conversione di mario draghi per inciso mario draghi risultato aver copiato un passaggio anzi più di un passaggio forse del suo discorso in parlamento da giavazzi noto economista di ortodossa fede liberista ciò che rivela come non vi sia alcuna conversione del personaggio in questione quindi questo mi pare particolarmente importante i più ovviamente non lo capiscono e non lo capiranno perché i più dopo anni di martellamento mediatico di iper semplificazione non possono accedere a tutto questo se noi pensiamo però ai grandi partiti come il partito comunista di togliatti la democrazia cristiana le msi diversissimi fra loro erano incredibilmente più articolati nella loro visione del mondo di quanto non siano i partitini della galassia odierna che non hanno contenuti ideologici hanno la stessa visione del mondo alla fine è quello che manca è proprio questo senti diego per riuscire ad incidere politicamente bisogna prima costruire una piattaforma culturale che tenga insieme gli uomini questa piattaforma culturale questo minimo comune denominatore non è facile da individuare neanche da mettere a fuoco e dentro questa confusione si generano spesso delle frizioni più o meno strumentali tu pensi che il compito oggi di chi indica i processi filosofici e quindi politici è anche capire e anche offrire diciamo un minimo comune denominatore che suggerisca a tutti gli interpreti a tutti quelli che si oppongono all'esistente una via per combattere insieme qual è questo minimo comune denominatore? Sì buona domanda mi permette anche di chiarire il mio ruolo sai sì molti dicono perché non entri in politica ma sai io dicevano i greci che ciascuno di noi ha un suo daimon e il mio non è quello di fare il politico dicevano anche i greci che l'intelligenza di un uomo sta nel rispettare il daimon proprio e quello altrui e questo già ci permette di fare una buona distinzione tra persone intelligenti e persone non intelligenti io credo che il minimo comune denominatore oggi più che mai sia quello che aveva già peraltro perfettamente delineato Gramsci nelle tesi di Lione quando diceva che bisogna raccogliere e coordinare tutti coloro i quali per una via o per un'altra sono giunti alla rivolta contro il capitalismo rivoltarsi contro il capitalismo significa naturalmente non fare qualcosa di puramente astratto significa invece opporsi a tutti i modi in cui si determina il capitalismo concretamente è chiaro ad esempio che nel vecchio continente essere contro il capitalismo significa anzitutto battersi contro l'Unione Europea e quindi per l'uscita dall'Unione Europea e dall'Euro che è condizio sine qua non direi che è condizione necessaria ma non sufficiente sul piano geopolitico significa battersi contro la potenza che incarna il capitale sul piano geopolitico che è braccio armato e quindi la monarchia del dollaro non si può essere anticapitalisti senza essere anti Bruxelles e anti Washington insieme poi sul piano politico occorre battersi contro e sul piano economico contro il liberismo sia contro quella visione delle cose che assume i mercati come principale anzi come esclusiva sorgente di senso da cui tutto il resto dovrebbe discendere sul piano metafisico anche la battaglia deve essere una battaglia contro il folle principio della illimitatezza che si determina nell'ambito economico come mito della crescita infinita nell'ambito etico come libertà declinata come trasgressione come violazione di tutti gli inviolabili sul piano geopolitico come sconfinamento e come abbattimento di ogni frontiera e di ogni misura e così via quindi in realtà la lotta contro il capitalismo che sembra massimamente astratta si determina poi in concreto in tante lotte che mi paiono della massima importanza e per le quali non vedo partiti né nel quadrante destro dove mai ci sono stati probabilmente partiti anticapitalisti in senso proprio né nel quadrante sinistro che ormai da parecchi lustri è diventato organico al capitale. Diego in tanti chiedono in maniera un po' astratta unità anche a costo di sciogliere strutture organizzazioni di uomini storie ideologia e seguire diciamo un singolo che gode presuntivamente di un carisma superiore agli altri. Secondo te questa è una buona via per fare chiarezza per semplificare il quadro politico o è una strada troppo semplice che in genere non porta fortuna? Dunque bisognerebbe capire i singoli in questione ora se ci fosse Antonio Gramsci probabilmente direi sì abbiamo dinanzi a noi un grande politico con una visione del mondo molto strutturata quindi sì possiamo scegliere di seguire questo intellettuale. Io ad oggi non ne vedo e quindi non vedo il grande singolo a parte il fatto che il grande singolo è grande proprio nella misura in cui non chiede mai una cosa di questo tipo Gramsci non ha mai detto a nessuno lasciate tutto e seguitemi semmai entriamo in una struttura che infatti si chiamava partito comunista non partito comunista di Antonio Gramsci o di Palmiro Togliatti era una struttura corale in cui si contava in quanto membri di una comunità e non come sottoposti a un leader quindi è evidente che questo non trova il mio favore se devo dire la mia visione del partito il partito non è una SPA, il partito non è una proprietà di un individuo il partito è un organismo democratico e quindi non ha bisogno per così dire di un leader carismatico quando non c'è soprattutto questo è il punto io non vedo ad oggi leader carismatici nella politica né a destra né a sinistra né al centro e non vedo neanche idee politiche, quel che è peggio non vedo idee politiche di alcuno spessore infatti abbiamo i tecnici, abbiamo gli economisti bocconiani ma non abbiamo, abbiamo i top manager ma non abbiamo i politici abbiamo perfino i virologi ma non politici che abbiano una loro visione ecco poi io so che probabilmente molti vorranno sciogliere partiti in altri partiti e se vorranno lo faranno con i loro partiti naturalmente io credo che ci si può confrontare mantenendo le specificità vedi il dialogo presuppone sempre il riconoscimento dell'altro è nemico del dialogo tanto il muro che blinda la propria identità mettendola al riparo dall'altra come negata tanto nega il dialogo anche lo sconfinamento o per così dire lo scioglimento della propria identità in quell'altrui la globalizzazione in fondo si muove secondo queste due direttrici muri o scioglimento sconfinamento capitalistico o muri che bloccano i passaggi e le relazioni invece ci vuole il confine come base di una relazione di un dialogo tra diversi questo è quello che bisognerebbe fare che credo che il soggetto che in questione Vox che adesso cambierà nome proverà a fare fin dal 27 con coloro i quali risponderanno al suo appello ecco il 27 parte questo processo costituente un processo di allargamento perché Vox conserva la sua struttura giuridica ma va oltre, cambia nome e simbolo accogliendo anche in maniera organica l'ingresso di personalità illustri, importanti penso a Mauro Scardovelli e penso anche, guardo anche con grande piacere e soddisfazione all'avvicinamento di tutto il gruppo di Liberiamo l'Italia il direttivo di Liberiamo l'Italia pochi giorni fa diramato un comunicato dove dice di guardare con grande attenzione a questo processo che noi abbiamo avviato ecco spirito di dialogo e di collaborazione si dicono pronti anche ad avviare diciamo una stagione che ci porti rapidamente a entrare dentro lo stesso partito se questi costituenti ti chiedessero nel nome, nel nuovo simbolo di scrivere il partito X con le idee di Fusaro ecco tu accetteresti di mettere il tuo nome nel simbolo o diresti no insomma non è il caso no, esula dal mio modo di operare ecco io non vorrei mai una cosa di questo tipo con il mio nome ecco dico la verità non mi piace l'idea di mettere il mio nome quasi fosse mio il partito o quasi fossi il messia del partito ecco non esula dai miei modi di fare proprio infatti come sai Francesco anche quando venne costituita a Vox fui molto chiaro su questo aspetto dissi subito che il mio ruolo sarebbe stato quello di teorico del partito dall'esterno e ho mantenuto credo tutte le premesse le promesse fatte nel senso che tutto ciò che si era concordato è stato fatto, ho mantenuto il mio ruolo che qualcuno possa ora insinuare che è stato deluso che si è sentito tradito è un problema suo essenzialmente ha mutato lui la sua prospettiva perché io ho mantenuto fede a tutti i patti a tutti i programmi che si erano fatti ecco insomma d'altronde il ruolo dell'ideologo è molto chiaro ma non è neanche una grande novità per fare un esempio simile magari nella forma ma molto distante nella sostanza anche la prima lega aveva un ideologo di riferimento che era miglio oppure non faceva politica direttamente ma era un punto di riferimento per tutti forse l'errore sta proprio nel fatto che siccome chi fa politica oggi non riconosce più l'importanza del pensiero e dell'idea dentro una struttura partitica non riescono magari tutti a rendersi conto che ti devono contattare semmai per capire un po' più di filosofia politica e meno per l'organizzazione interna o per la determinazione degli equilibri che regolano necessariamente la vita di ogni organismo collettivo ecco ti dovrebbero chiamare magari molto di più per parlare di Gramsci e molto di meno per parlare magari del segretario di sezione per dire insomma di Pescara o di Rieti insomma forse questa è l'ambiguità l'incomprensione di molti che andrebbe sciolta sul nascere Sì anche perché io poi di queste cose pratiche non ne faccio mistero capisco poco o niente mi occupo di altre questioni e quindi ciascuno deve avere il suo campo di competenze e di specificità riconoscendo i propri limiti e i propri punti di forza chiaro che è così tra l'altro si dà anche un conflitto di interesse mica da poco perché sai se uno come nel mio caso si trova a insegnare non puoi svolgere il ruolo di docenza e insieme essere il leader di un partito perché quando ti rivolge i tuoi studenti a che titolo ti stai rivolgendo? Naturalmente è una domanda non di poco conto sarebbe un po' io dico così come se un medico fosse poi anche produttore di farmaci per una multinazionale supponiamo ci sarebbe un chiaro conflitto di interesse e quindi credo che la mia posizione sia anche di estrema chiarezza e di estrema trasparenza con buona pace di coloro che stoltamente ancora continuano a ripetere che io dovrei scendere in campo e diventare il leader di Vox significa peccare di Platone avrebbe detto di misologia cioè di spregio per il logos e purtroppo gli affetti da misologia sono molteplici e con loro è inutile perdere tempo credo ecco insomma poi nel caso in cui un domani dovesse cambiare diciamo il tuo il tuo approccio il tuo sentimento il tuo desiderio ma questo deve essere frutto naturalmente di un di un convincimento personale non il risultato diciamo di una richiesta improvvisa ci tengo a precisare che anche Aldo Moro che è stato un grandissimo statista che ha pagato a duro prezzo il fatto di difendere lui per davvero diciamo gli interessi dell'Italia era un professore universitario ecco per cui a un certo punto esistono diciamo uomini che certamente accademici di grande valore che però decidono di mettere la loro sapienza la loro conoscenza a beneficio diciamo di una di una di un contesto prettamente politico però naturalmente questo deve scattare autonomamente nel cuore di chi come dice tu devi seguire diciamo quello che è il suo stituto il suo sentimento ecco senza per questo dover fare scelte che non sono in linea con la sensibilità che si è maturata tu prima hai detto una cosa importante hai detto io non metterei mai il mio nome nel simbolo perché non mi sentirei a mio agio trovi un po' diciamo sbagliata questa mania diciamo di questo liderismo esasperato è uno dei motivi del fallimento della seconda repubblica è anche l'eccesso di personalizzazione in politica ma guarda io non giudico mai non giudico mai gli altri e soprattutto non mi permetto di giudicare partiti che magari proprio con il liderismo hanno fatto la loro fortuna anche perché ad esempio penso all'esperienza di Forza Italia che era un partito iper lideristico modalità azienda dove c'è il padrone poi ci sono gli operai ecco questo modello che non è il mio ha dato evidentemente i suoi risultati all'atto pratico perché ha avuto sicuramente grandi consensi a torto o a ragione dico solo che a me non è il mio modello ecco non è il mio modello resto legato ai vecchi modelli invece della prima repubblica dove non c'era il c'erano certo dei leader carismatici ma non a tal punto da figurare narcisisticamente nei simboli o nei nomi ecco non c'era il partito comunista con il come dire il nome di Togliatti c'era il partito comunista che riconosceva ovviamente a Togliatti la sua figura di spicco ecco credo che sia una questione di come vogliamo impostare la politica ecco credo mi permetto di dire questo sì che la l'importanza così ipertrofica del leader fin nel nome nei simboli sia figlia di una mentalità liberistica che si è sviluppata e sa stessa ipertroficamente dopo il 1989 che per un verso ha sdoganato l'idea che il partito e lo Stato siano come l'azienda e che ci debba essere sempre la figura del dell'imprenditore di riferimento ecco questo forse è parte del problema più che la sua soluzione ecco Diego alcuni dicono vabbè sarà anche una bella idea quella di mettere insieme il pensiero di Fusaro poi tradurlo in forza politica con una classe dirigente preparata magari alcuni che hanno una capacità di azione politica più incisiva una capacità più carismatica di buona per aprire gli occhi a delle masse che sono oggi soggiocate da una propaganda ipnotica però poi dice in realtà se non c'è il leader politico mediatico quello che va da Vespa quello che va su Canale 5 quello che la sera va dalla Gruber ogni cosa è destinata a fallire sei d'accordo tu con quelli che pensano questo? guarda parli con uno che non guarda la televisione quindi è difficile per me immaginare e in compenso però legge Gramsci e Togliatti quindi per me è difficile immaginare che il leader debba essere un personaggio da prima serata televisiva anche perché l'obiezione che mi verrebbe spontaneo fare è ma allora il partito che riuscisse a portare dalla sua Amadeus o Platinet avrebbe ipso facto vinto su tutti data l'alta carica mediatica di questi personaggi ecco io credo che occorrano anzitutto le idee le idee e le visioni ecco e questo è quello che fa la differenza poi quindi la società dello spettacolo in cui viviamo ha spettacolarizzato la politica stessa infatti troviamo in televisione leader come Matteo Salvini o come gli altri che vedete in tv che vi assicurano non resisterebbero a un dibattito filosofico politico neanche due minuti non avrebbero nulla da dire ormai non parlano neanche più fanno questi cinguetti della rete questi slogan ribaditi urlati impugnando magari il crocifisso come dire non è politica questa è società mediatica che pretende di spacciarsi per politica ecco e a me piace invece pensare ancora alla politica come come il tentativo di tradurre un'idea filosofica nella realtà pratica cioè come tentativo di riannodare la storia e l'idealità o se preferite riannodare fra loro l'essere e il dover essere ecco questa è la mia visione quanto di più lontano ci sia dalla spettacolarizzazione mediatica ecco intendiamoci poi è chiaro che anche Pasolini andava in televisione anche i grandi leader però un conto è andare in televisione o nei tour show o altra cosa è ridurre la propria esistenza a quell'ambito o all'ambito della piazza urlata ci vuole un'elaborazione concettuale se vi chiedessero qual è la visione della Lega o del partito democratico oggi credo che fatichereste a non solo a enunciarla ma anche a distinguerla l'una dall'altra tant'è che ora convergono nel governo Draghi ecco distinguere le idee del partito di Gramsci da quelle del partito poi di di Moro che tu citavi o dal partito di Pannella o dal partito di Almirante era certamente possibile ed erano idee di cui si poteva non condividere nulla ma bisognava riconoscere che c'era un impianto concettuale chi potrebbe dire che nella democrazia cristiana non c'era una visione del mondo chi potrebbe dire che nel partito comunista non c'era una visione del mondo o nell'MSI anche c'era una visione del mondo condivisibile oppure no non stiamo qui a sindacare oggi se tu prendi la Lega il 5 Stelle il PD sono di fatto partiti interscambiabili nella visione del mondo si oppongono magari su micro questioni su nuance su piccole cose ma poi non mettono in discussione l'ordine liberale di fondo gli assetti geopolitici e così via leggevo proprio recentemente che il Movimento 5 Stelle si è scoperto un partito moderato e liberale che era anche la definizione che dava di sé Forza Italia peraltro che sulla carta doveva essere acerrimo nemico del 5 Stelle che poi nella definizione dell'essenza quanto pare coincide con il 5 Stelle ecco è questo che manca oggi una visione in grado cioè come dire c'è una sorta di perimetro all'interno del quale ci si divide ma condividendo gli spazi del perimetro la vera forza dirompente sarebbe quella che andasse al di là del perimetro che forzasse gli spazi del perimetro per dire che c'è un'alterità rispetto a quello spazio questo bisogna fare solo la forza di un'ideologia può farlo ideologia nel senso prima richiamato ecco Adorno ci aveva messo in guardia dai pericoli della cosiddetta industria culturale questa industria culturale o per usare un'altra immagine riuscita questo questo insomma questo spettacolino messo in piedi ha finito con l'assorbire e in un certo senso rendere grottesca anche l'idea stessa di politico ormai la politica è spettacolo è il risultato diciamo di un lavorio che non ha nulla a che fare con i sentimenti degli uomini ma è semplicemente diventato diciamo un meccanismo di marketing è questa la politica sì tant'è che se capita di vedere in questi in questi demenziali tall show televisivi non chiedono mai al leader di un partito supponiamo alla Lega o a quello del PD qual è la sua visione del mondo gli chiedono cose di pura gestione immediata dell'esistente dando per scontato che l'ideologia sia la medesima e cambino poi in realtà solo come dire le operazioni pratiche quotidiane per gestire l'esistente avrete fatto caso sui principi ideali non c'è contrapposizione in fondo non c'è contrapposizione e quindi esatto la politica diventa proprio questo una una sorta di di lotta fra partiti che si fingono opposti che si contengono si contendono in realtà il posto al governo per attuare riforme che sono volute poi da entità transnazionali come il Fondo Monetario Internazionale o la Banca Centrale questo è quello che avviene che poi infatti scodinzolanti e sommessi accettano l'untore mandato dall'alto cioè da Bruxelles in questo caso Mario Draghi è quello che sta che sta avvenendo in questa fase e anche quelli a mio giudizio però qui esprimo un giudizio personale passibile di essere falsificato direbbe Popper perché non ne ho ancora gli elementi materiali empirici per dire se sia falsificato o invece non falsificato anche taluni partiti che si oppongono o anzi si astengono rispetto a Mario Draghi occorre capire se lo facciano per reale convinzione o se in realtà si assicurino una nicchia di consenso che altrimenti andrebbe perduto e che non avrebbero se appoggiasse anche loro Mario Draghi in questo caso ecco ma non vedo una vera messa in discussione dell'ordine costituito anche un partito come Fratelli d'Italia che indubbiamente si è rivelato superiore e più dignitoso rispetto alla Lega o al Movimento 5 Stelle indubbiamente sottolineo infinitamente più dignitoso di loro perché non ha appoggiato Mario Draghi ad ogni modo ha al proprio interno a giudizio almeno mio tutta una serie di elementi di liberismo che minacciano da sempre la possibilità che quel partito sia realmente antiliberista che cosa vi sarà mai di antiliberista nella visione del mondo di una Sant'Anché o di un Crosetto con tutto il rispetto per entrambi intendiamoci sono organici a quel mondo a quella visione delle cose con tutto il rispetto ripeto per i personaggi non è un'accusa ad persona ma la mia Ecco Vox nasce Diego all'indomani della sconfitta della resa del primo governo populista proprio per mantenere il punto per offrire ai cittadini disorientati la possibilità di continuare ad essere politicamente rappresentati sembra passato un secolo è passato solo un anno e mezzo però forse le priorità sono cambiate nel senso che se un anno e mezzo fa la priorità era effettivamente quella di uscire dall'Unione Europea e dall'Euro immediatamente perché quello era il problema principale problema che peraltro rimane tutto perché noi la prima cosa che faremo sarà smontare questa perfida Unione Europea che schiavizza gli uomini facendo finta di tutelarli abbiamo visto in Gran Bretagna come è successo l'esatto contrario di quello che dicevano i megafoni di regime non c'è nessuna catastrofe anzi oggi quel paese ha le leve per decidere autonomamente il proprio destino poi magari i decisori decidono male però perlomeno sono liberi di sbagliare da soli e non perché l'errore viene imposto dall'esterno oggi però sembra paradossalmente presentarsi di fronte a noi un problema ancora più drammatico che va a toccare le nostre libertà costituzionali quelle diciamo che nessuno avrebbe mai pensato che sarebbero finite così rapidamente nel cestino mi riferisco alla libertà di parola la libertà di spostamento la libertà di associazione come si fa politica senza libertà un'emergenza che doveva durare poche settimane o pochi mesi è diventata oramai cronica ed endemica c'era chi diceva che in Italia nulla è più definitivo del provvisorio Diego senza farla troppo lunga siamo entrati in una vera dittatura e ancora non ce ne siamo accorti ma allora giustissima la tua osservazione Francesco puntuale e giusta direi che è chiaro che l'uscita dall'Unione Europea è sempre una priorità come anche l'opposizione alla subalternità rispetto a Washington lo è e chi non capisce questa convergenza di punti è condannato a non capire nulla in realtà perché la sovranità nazionale si recupera tutta intera non a pezzi quindi si recupera quella monetaria da Bruxelles e quella militare da Washington senza queste due sovranità queste due quote di sovranità non esiste la sovranità bisogna essere chiari su questo punto senza moneta e senza milizie non esiste la sovranità ora è chiaro che queste priorità che erano al centro del programma di Vox che ne caratterizzavano direi centralmente la posizione distinguendola da quella di tutti gli altri partiti perché ci sono partiti che sono per il recupero della sovranità monetaria ma non di quella militare o viceversa di quella militare ma non di quella monetaria oltre che partiti che vogliono non solo non recuperare la sovranità ma magari cederne i pochi frammenti superstiti bene è chiaro che la politica poi si fa anche in base all'occorrere degli eventi e alle nuove emergenze che subentrano e a me pare chiaro come il sole che in questo contesto febbraio 2021 la priorità assoluta sia il pieno ripristino dei diritti compressi delle libertà sequestrate e di tutti i punti della Costituzione che de jure sono ancora esistenti ma che de facto sono sospesi per via del paradigma biosecuritario che stiamo vivendo ecco qui veramente si misura l'assenza di opposizione perché che io sappia non esiste in tutta in tutta la sfera della politica italiana almeno una vera opposizione rispetto a quello che io chiamo il leviatano terapeutico rispetto al appunto a questo nuovo ordine sanitario esistono partiti magari più sensibili ai ristoratori ai ristori all'esigenza di dare del sostegno materiale ed economico e sacrosante ragioni hanno per farlo manca però una forza che realmente contesti il dispositivo stesso dispositivo che io contesterei su queste basi detto con una frase semplice ma è un tema sul quale mi sono dilungato molto in altri interventi è sacrosanto combattere contro il virus ma è pericoloso pretendere di combattere contro il virus limitando le libertà e i diritti combattere contro il virus in maniera sensata si farebbe se si potenziasse il sistema di sanità nazionale se si potenziasse e implementasse il numero dei medici e degli infermieri non certo limitando le libertà e i diritti senza toccare invece il sistema sanitario perché il paradosso io lo dico sempre e lo dirò anche ora il paradosso è che il coronavirus che ci sta ormai angustiando da un anno a questa parte è letale non in sé per sé come ci dicono i dati è letale quando incontra un sistema nazionale indebolito sanitario nazionale indebolito dalle politiche di austerità depressiva lì diventa pericolosissimo il coronavirus lì diventa pericolosissimo quindi gli stessi che ci dicono ora che bisogna salvare le vite che la vita è la cosa più preziosa che la salute è il bene più alto sarebbero anche credibili se non fossero gli stessi che fino a due anni fa tagliavano sulla sanità pubblica sull'assunzione di personale medico ospedaliero e così via in realtà costoro usano l'espressione la vita è la cosa più importante non perché abbiano a cuore le vostre vite ma perché debbono usare questo teorema per giustificare i tagli alla libertà e ai diritti per cui è chiaro che manca completamente è sguarnito il fronte dell'opposizione contro l'ordine terapeutico non solo è sguarnito peggio ancora è coperto da partitini esistenti sulla carta o sulla rete da gruppetti folclorici che finiscono per macchiettizzare il dissenso rendendolo ridicolo e come dire ineffettuale sono i gruppi degli stolti che dicono il virus non esiste è tutto un grande complotto non c'è alcun virus ecco questi gruppi che sono composti per lo più da dementi acefali sono gruppi che in realtà nuocciano a una critica reale dell'ordine terapeutico come ho cercato di dire le priorità quindi in estrema sintesi oggi prima ancora di combattere i centri oligarchici di Bruxelles e Francoforte è quello di combattere la dittatura sanitaria non c'è politica senza libertà ma guarda dire dittatura a me non piace la formula dittatura sanitaria sai perché perché sembra che ci siano dei medici che in qualche modo nella clinica o in sala operatoria hanno deciso di istituire una dittatura e di fare un golpe non è così ovviamente non è così io se devo sintetizzare la mia posizione io preferisco parlare di leviatano terapeutico cioè di un nuovo intreccio di sapere e potere per dirla con Foucault che usa il lessico medico scientifico ma non per istituire un potere dei medici o della medicina ma per coprire legittimare il potere di sempre del capitale delle classi dominanti per cui preferisco parlare di leviatano terapeutico come dire il virus il coronavirus viene utilizzato come metodo di governo dall'ordine del discorso che istituisce una razionalità politica di tipo liberista c'è il virus ergo bisogna istituire limitazioni di libertà e di diritti e così via quindi è una razionalità politica che usa l'emergenza per attuare un programma che esisteva già prima perché ripeto si parla di grande reset ma in realtà non è che abbiano inventato nulla di nuovo perché la digitalizzazione lo sterminio delle classi lavoratrici dei ceti medi l'implementazione di poteri post democratici come le task force o i comitati tecnici e così via l'e-commerce esistevano già tutti prima semplicemente hanno colto al balzo l'occasione per potenziare questo sistema e il virus ha fornito un'ottima occasione per cui bisognerebbe insistere su questo punto ma questo è il punto che non si può dire tu potrai andare su canale 5 o sulla 7 a dire che bisogna dare più ristori o che speranza non ha gestito bene ma non potrai invece andare a dire guardate che si è creato un dispositivo biopolitico basato sulla sorveglianza totale degli individui sopra e sotto la pelle sul distanziamento sociale come nuovo metodo di società non sociale atomizzata e poi sul lockdown come nuova arma di massacro dei ceti medi e questo non si può dire invece è al di fuori di quel perimetro che dicevamo c'è un perimetro all'intorno del quale si può discutere si può dire come fanno le forze PD che ci vuole più sicurezza e più intervento si può dire come fanno altre forze magari la Lega ci vogliono più ristori e più attenzione per i ceti medi ma quello che non è lecito fare è andare al di là del perimetro e dire guardate che è sbagliato il metodo stesso cioè pensare di poter in nome di un diritto quello alla salute è mettere a tacere gli altri ad esempio questo non è lecito dirlo infatti si reagisce sempre come reagisce l'ordine del discorso non confutando nel merito ma utilizzando parole preordinate come negazionismo cioè riportando tutto sempre al piano medico scientifico quando in realtà non c'entra nulla in questo caso il piano medico scientifico perché ripeto è giusto combattere contro il virus però ecco qui è il punto non si può limitare la libertà e la costituzione questo è il vulnus il virologo ci dirà anche che bisogna fare dieci mesi di lockdown per evitare il virus sta poi al politico contemperare questa visione con le libertà e i diritti costituzionali e non tradurre in dpcm ciò che dice il virologo che altrimenti effettivamente si va verso una situazione di biocrazia direbbe Foucault il bios che diventa oggetto da parte del potere ecco anche perché Diego nel secolo scorso abbiamo già assistito ad alcune dinamiche che ci ricordano quello che succede adesso quando alcune scelte infami e solamente politiche venivano mascherate da un velo medico scientifico mi riferisco ad esempio al manifesto sulla razza firmato dagli migliori scienziati del tempo ecco magari anche allora potevano dire no ma noi ci stiamo limitando soltanto a tradurre in politica quello che dicono gli scienziati insomma dicono questo e noi lo facciamo perché lo dice la scienza non perché siamo cattivi noi fatte le dovute proporzioni però il metodo sembra sovrapponibile sì per questo è così importante oggi distinguere la scienza dall'ideologia l'ideologia è una nel caso di quella medico scientifica è una visione del mondo che giustifica gli interessi dei gruppi dominanti e che si spaccia per scientifica e medica e che quindi non è scienza e medicina in senso proprio ma è appunto ideologia qual è la differenza fra la scienza e l'ideologia che la scienza non rispecchia gli interessi di una classe e non li spaccia per universali l'ideologia invece questo fa nascondendosi dietro la scienza e quindi è chiaro che stiamo andando in quella in quella direzione di una ideologia che si spaccia per scienza e che giustifica in realtà rapporti di forza a beneficio dei gruppi dei gruppi dominanti si possono fare molti esempi a questo riguardo pensa ad esempio ai coprifuoco i coprifuoco non c'entrano nulla con la scienza anche se vengono presentati come scientifici e medici in realtà i coprifuoco servono solo a cambiare le abitudini degli italiani è stato detto testualmente ancora i lockdown hanno una valenza medico-scientifica chi lo sa sicuramente distruggono l'economia dei ceti medi l'economia di prossimità l'economia delle classi lavoratrici e soprattutto danno una svolta autoritaria alla società ecco questo intendo dire che stiamo assistendo a una ideologia medico-scientifica per questo è così importante distinguere la scienza dall'ideologia bisogna criticare non la scienza in quanto tale ma appunto le sue ricadute ideologiche come si diceva tra l'altro è curioso che oggi chiunque osi criticare la scienza e per inciso tu citavi Adorno ma grandi filosofi del novecento l'hanno fatto anzi larga parte della filosofia del novecento è uno sguardo critico verso la scienza critico non vuol dire di negazione di mistificazione significa appunto uno sguardo di interrogazione radicale della scienza oggi proprio come ai tempi del medioevo non sembra possibile farlo con la scienza come al tempo non si poteva fare con Dio probabilmente si è subito oggetto di criminalizzazione bene Diego allora ci diamo appuntamento a sabato 27 a Roma per questo primo passo che ci porterà ad andare oltre Vox a dare finalmente una rappresentanza politica autentica a milioni di cittadini che oggi sono fuori diciamo dal perimetro democratico schiacciati da partiti che mentono e dall'impossibilità di tornare al voto perché sembra che ormai il voto non sia più di moda prima o poi però ci dovremo tornare anche se noi non viviamo con l'ossessione del voto perché prima di riuscire a tradurre in vera forza politica bisogna fare un lavoro culturale prepolitico che consenta alla gente di maturare dei convincimenti non suggestivi ma profondi calibrati quindi costruire una massa critica che si possa opporre con le armi della ragione della conoscenza ad un sistema che invece vive di imbrogli vive di capacità ipnotiche suggestive e di manipolazione pure in un certo senso ci dispiace che molti non potranno venire abbiamo ricevuto Diego forse migliaia di richieste di adesione all'evento del 27 quest'ultimo DPCM però ci ha tagliato le gambe quindi dovremo farlo necessariamente con un numero contingentato di persone chiediamo scusa a tutti quelli che non potremo fare partecipare in presenza sabato però faremo una diretta faremo uno streaming che permetteremo anche a tutti quelli che ci guarderanno da casa di fare delle domande in rete insomma qualcosa di buono la tecnologia la tecnologia qualcosa di buono la fa perché ci permetterà comunque di interagire anche se non siamo tutti fisicamente lì però vi prometto che a brevissimo subito dopo l'evento del 27 Diego fisseremo insieme la data una data dove ci incontreremo in presenza con migliaia di iscritti che potranno festeggiare insieme sarà una grande festa di popolo un grande incontro dove costruiremo insieme all'altra gente insieme a tutti quelli che verranno una comunità solida unita compatta solidale insomma verrà fuori una sola grande anima dalla convergenza di tanti singoli animati da un pensiero autentico è vero grazie Diego tra l'altro dico una cosa Francesco che il fatto che da ormai un anno a questa parte siano sospesi i convegni congressi i convegni politici le assemblee sindacali ecco è una norma medico-scientifica o è una norma politico-repressiva vi lascio con questa domanda ecco insomma noi la risposta la sappiamo però ci rendiamo conto che non si può bloccare la democrazia all'infinito quindi insomma i decisori dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza perché c'è un limite che non può essere superato non si può pensare di blindare il potere esistente non soltanto costringendo tutte le forze politiche a stare dietro a Mario Draghi ma persino impedendo a quelle che sono fuori dal Parlamento di riunirsi per immaginare una pacifica serena e forte alternativa politica non esagerate perché in passato chi ha esagerato poi insomma alla fine se ne è dovuto pentire grazie ancora un caro saluto da Diego Fusano bene cari amici di Vox Italia TV si conclude qui un nostro nuovo approfondimento vi ricordo che Vox Italia TV si regge soltanto grazie alle vostre libere donazioni potete aiutarci tramite bonifico tramite Paypal potete abbonarvi sul nostro sito www.voxitaliatv.it tutte le tv libere sono sotto attacco esprimiamo ah mi dicono dalla regia che ho sbagliato l'indirizzo www.voxitaliatv.com e non .it come erroneamente detto in precedenza tutte le tv libere sono adesso sotto attacco siamo stati colpiti noi a novembre adesso negli ultimi giorni è il turno di Claudio Messora con Bio Blu che è stato demonetizzato anche a lui sono stati tolti gli abbonamenti noi naturalmente esprimiamo a Claudio Messora piena solidarietà a lui a tutta la redazione composta da ragazzi brevissimi che lavorano ogni giorno per offrire punti di vista non allineati Claudio non è uno che si fa intimidire come ci siamo fatti intimidire noi però sappiate che il momento è davvero difficile sono tempi duri ed è bene non abbassare la guardia grazie alla prossima grazie a tutti grazie a tutti